Ben trovati in un nuovo video 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 c'erano anche tanti sacerdoti, parroci in Cadore o di origine cadorina, ex parroci di Valle, siamo scesi in processione, ci siamo uniti anche alle autorità e poi alle 15 finalmente la Santa Messa. E questo che momento è per esempio? Ecco, abbiamo fatto un piccolo momento di preghiera prima dell'ingresso in chiesa, quindi prima della messa, alle porte della chiesa, abbiamo appunto reso grazie a Dio per questa riapertura e il Vice Presidente del Consiglio Pastorale, Alessio Giacchetti, che si è anche molto speso per questi lavori, ha fatto un saluto a nome del Consiglio Pastorale a tutte le persone lì presenti. E qui vediamo tra l'altro appunto il nostro Vescovo Marangoni, vediamo anche gli Alpini dietro, sempre pronti comunque a dare un aiuto e sostenere quindi anche le attività ovviamente della parrocchia. Che emozioni si sono provate, cosa è stato detto, cosa ha detto Sua Eccellenza al Vescovo, cosa ha detto lei stesso, Don Alessandro, ai suoi parrocchiali? È stata una festa di comunità e questo si respirava, si respirava proprio la gioia di un momento condiviso. Siamo arrivati fin lì perché tantissima gente si è spesa perché questo accadesse, quindi dall'amministrazione, dalla Regione, il Vescovo stesso, è stato molto vicino a questa comunità, anche nei momenti appunto in cui mancava il parroco e poi le associazioni, le Proloco di Valle, di Venas, gli Alpini, gruppi di volontariato, si sono tutti quanti spesi per arrivare a quel momento al meglio. E quindi quello che è uscito insomma un po' sia dal mio saluto ma anche dall'omelia del Vescovo, è proprio questo, che la sinergia, la collaborazione permette di arrivare a dei miracoli, tra virgolette, ai venti che, ecco, probabilmente due anni fa pochi avrebbero scommesso che la Chiesa di Valle potesse essere riaperta al culto. Invece questa speranza flebile, grazie alla collaborazione di tanti, a realtà, insomma, è una cosa che si è realizzata in tempi anche relativamente brevi perché in un anno il cantiere è stato riconsegnato e quindi in un tempo anche brevi abbiamo raggiunto un risultato. E una grande gioia. Stiamo vedendo sempre con l'aiuto di Simone che ci segue in regia le immagini di una Chiesa davvero gremita, tra l'altro una Chiesa molto bella come si presenta. Lei diceva che alcuni studenti sono rimasti meravigliati, Don Alessandro. Allora abbiamo avuto qualche giorno dopo l'arrivo di bambini della scuola dell'infanzia di Valle e erano tutti, anche se erano tanti e di solito molto rumorosi, erano tutti silenziosi come incantati nel guardarsi intorno, nel vedere l'interno di questa Chiesa che dentro non avevano mai visto perché appunto essendo stata chiusa per più di due anni non avevano mai avuto l'occasione di entrarci. E in questi primi giorni comunque dalla riapertura c'è la partecipazione dei fedeli, come vanno le cose? Sì, c'è la gioia di un luogo del cuore riacquistato. Avremo a giugno una coppia di sposi che aspettano già da un po' di coronare il loro amore per sposarsi lì a San Martino, abbiamo imparato un po' di battesimi, alcuni che dicevano no, io voglio fare il battesimo lì dove l'ha fatto io, mio papà, mio nonno, mio bisnonno. E quindi insomma c'è la gioia di aver recuperato un luogo caro, proprio un luogo che è un po' la storia di una comunità, è un luogo in cui si sono vissuti momenti davvero significativi di un paese e che vogliamo possa essere proprio teatro di altri momenti importanti per la nostra comunità e proprio per tutto il Cadore. Certo, adesso pian pianino ci avviciniamo anche alla stagione estiva e comunque queste sono località, insomma il Cadore è una delle zone più turistiche se vogliamo del territorio della provincia dolomitica, quindi insomma siete pronti ad accogliere anche i turisti, giusto Don Alessandro? Le porte sono sempre aperte, avremo anche quest'estate un concerto d'organo che si faceva, poi purtroppo è stato ovviamente interrotto, già domenica questa il 21 maggio a San Martino il Vescovo ringrazierà e saluterà tutti i consigli pastorali che adesso sono appunto in scadenza e il Vescovo ha scelto San Martino come luogo significativo in cui fare questa piccola cerimonia, questo momento di saluto e di ringraziamento. Quindi tanti momenti belli per continuare questa festa, insomma che il primo maggio sta segnando la vita della nostra comunità. Io ringrazio Don Alessandro Coletti per averci raccontato quindi le emozioni, per aver condiviso con noi un po' nel dettaglio anche la gioia di questo momento, di questa data che rimarrà sicuramente celebre nel cuore anche innanzitutto di tutti gli abitanti locali ma poi ovviamente all'interno della nostra diocesi, della nostra comunità. Don Alessandro ricordiamo che poi lei ha altre due parrocchie da seguire, non solo questa perché insomma poi i fedeli giustamente vogliono essere ricordati, giusto? Certo, Benasse e Cibiana, comunque diciamo così anche Benasse e Cibiana sono figlie della pieve di San Martino quindi hanno anche loro partecipato della gioia della parrocchia di valle quindi è stato proprio un lavoro di sinergia anche con le altre comunità. Ecco quindi un momento corale e un saluto particolare ovviamente ai parrocchiani anche delle altre due realtà. Don Alessandro grazie ancora per la sua disponibilità e buona continuazione insomma delle tante iniziative alla parrocchia. Grazie a voi e se li invito per momenti così belli benvengano sicuramente. E a tutti quanti voi ancora grazie per l'attenzione e una buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti.